Genitori allarmati per casi covid all'interno delle scuole. Preoccupazione non solo a Vittoria, ma anche all'istituto Elio Vittorini di Siragusa. Contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo allontanando ogni tentazione dei luoghi ritenuti sensibili. Il sindaco di Ragusa, Cassì, emana una nuova ordinanza e programma multesalate per i trasgressori. Continua la serie di furti nelle campagne modicane, fatti che preoccupano i residenti. Intanto c'è chi si organizza e segnala i movimenti sospetti in apposti di gruppi Whatsapp. Continua e si rinnova in tempo di coronavirus la bella iniziativa della Modicana Leste Sudano. Ancora tanto successo per lo scontrino sospeso, ora anche delle lettere a Mamma Natale. Buongiorno e ben trovati ad una nuova edizione TG74. Apriamo il telegiornale con i dati relativi al coronavirus. Questa volta essere al centro e l'attenzione sono due istituti differenti. Una a Vittoria e l'altra a Siragusa. Quest'ultima ha mostrato un certo disinteresse sulla positività di una docente, facendo indignare i genitori degli alunni. Scuole che aprono e chiudono, non in base alla programmazione di inizio anno scolastico, ma per questioni legate ai contagi da coronavirus. Sia in provincia di Ragusa che in tutta la Sicilia sono sempre di più gli istituti scolastici aperti a singhiozzo per nuovi positivi riscontrati tra i banchi di scuola. Gli ultimi casi registrati riguardano Vittoria e un istituto di Siragusa. Nel comune Ipparino la Commissione straordinaria ha chiuso in via precauzionale due istituti per stanificazione, Portella della Ginestra e Caruano. Entrambe le scuole, come altre della riapertura della zona rossa, sono state disturbate da alcuni casi di covid. Si spera in un forte senso di responsabilità, anche se giungono notizie che giovani e meno giovani si stanno organizzando per trascorrere le feste nelle seconde case. Stesso senso di responsabilità che sembra però mancare proprio a Siragusa, dove alcuni genitori affermano che le scuole restano aperte ma non funzionano. È successo all'istituto ottavo comprensivo Elio Vittorini, dove i genitori che fanno rimbalzare di aule in aule il loro grido d'allarme per diversi casi covid. Ma la preside non interviene. Un post su Facebook di un insegnante dell'istituto in maniera sottile e delicata senza creare allarmismo, e scrive «Di solito parlo di animali, ma stavolta voglio rivolgere alle persone un grazie speciale. Ho scoperto in questo brutto momento di avere tanti amici e mi state commuovendo con le vostre offerte d'aiuto in lati positivi del covid». Una mamma preoccupata chiede spiegazioni, visto che la preside ha messo un post nella pagina della scuola scrivendo «Comunicato in atto non abbiamo ricevuto un certificato né da medico né da laboratorio privato né da ASP che ci comunichi la positività di qualche docente nella scuola». Ma in realtà la professoressa in questione aveva inviato tramite il suo medico un certificato di malattia telematico con data 21 dicembre 2020 alle ore 9.22 circa. Non si capisce il perché anche l'insegnante richiede autorizzazione per malattia con data a 30 dicembre 2020 per il 21 dicembre 2020 e la preside non tiene conto e dichiara il contrario. I genitori chiedono «Come possiamo fidarci ed affidare le nostre vite in mano a una dirigente che ad altro avrà pensato tranne che a mettere riparo le vite umane?». Raffica di furti nelle campagne modicane. Le abitanti, visto l'abbandono delle istituzioni, hanno deciso di creare un gruppo WhatsApp per difendersi e informarsi tra di loro sentite. Continua la serie di furti nelle contrade modicane in questi giorni, nuovamente presa di mira dei ladri che nel giro di poche ore arrivata la sera approfittano del fatto che le zone in questione non sono illuminate e svaliggiano numerose villette in assenza dei proprietari. Gli stessi residenti sono ormai esasperati, più volte hanno chiesto aiuto e scritto alle istituzioni chiedendo la realizzazione della pubblica illuminazione programmata per quella zona degli anni Ottanta, controlli da parte delle forze dell'ordine che nonostante la carenza di personale sono riuscite in qualche modo a sventare qualche furto in abitazione e denunciare un cittadino albanese residente nell'Ipparino, visto più volte nelle contrade modicane. «Non dormiamo più», gridano a gran voce gli abitanti della zona. «Quando ci allontaniamo da casa, abbiamo sempre il timore di tornare e trovare svaliggiate». Si rivolgono dunque ancora una volta alle istituzioni, in particolar modo al sindaco Abate, affinché si impegni nella realizzazione dell'illuminazione divenuta ormai opera pubblica non più differibile. Nel frattempo gli abitanti hanno creato un gruppo WhatsApp per difendersi e scambiarsi informazioni e allertare in caso di presenze o autosospette. Contrastare la patologia del gioco d'azzardo attraverso un'ordinanza sindacale che definisce le distanze minime di sale scommesse dalle zone più sensibili cittadine. E' quanto deciso ieri dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, per tutelare la sicurezza e la salute dei propri concittadini. Sia al gioco e alle scommesse, ma solo se a debita distanza da certi luoghi ritenuti sensibili, ovvero maggiormente frequentati, che magari con slot machine sotto casa potrebbero alimentare la propria voglia d'azzardo. Un occhio particolare anche ai giovani e soprattutto ai minorenni. E' il senso della nuova ordinanza emanata dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in merito alle distanze di sicurezza che devono sempre esserci tra popolazione e apparecchi di scommesse. Con tale provvedimento, in cui si fa tra l'altro presente che è necessario intervenire per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo a tutela della comunità locale per garantire la sicurezza, la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo, nonché una cultura solidare, si ordina di vietare fino alle entrate in vigore di apposite disposizioni regionali o comunali l'apertura di sale da gioco sia tradizionali che videolotti di terminal, giochi a scommesse, quindi lontani da scuole, chiese, centri sociali, centri giovanili, ari sportive, strutture residenziali, sanitarie, comandi di polizia o cimiteri. Con questa ordinanza, dunque, dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, non si potranno più aprire sale da gioco sia tradizionali che videolotteri e non si potranno installare slot machine e apparecchi per il gioco d'azzardo a meno di 500 metri da luoghi di aggregazione con particolare riferimento a quelli frequentati da giovani. La multa andrà dai 2.000 ai 10.000 euro che possono diventare anche 50.000 nel caso di violazione reiterata. I proventi delle sanzioni saranno destinati al recupero di persone affette da ludopatia e al sostegno dei familiari, vittime del gioco d'azzardo. Ricoverato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è stato sottoposto ad intervento chirurgico il modicano Aristide Puedomani, figlio del noto scrittore Raffaele. La sua assenza in giro per il centro cittadino in questi ultimi giorni era stata notata e numerose erano state le segnalazioni per capire cosa gli fosse successo. Aristide Puedomani ha subito dunque un intervento alle corde vocali e ha perso completamente la voce, almeno per il momento. Gli auguri di pronta guarigione arrivano in queste ore da quanti conoscono il figlio dello scrittore modicano, noto per la sua originalità e la sua allegria. La dea bendata della fortuna è passata da Modica e precisamente in un tabacchino di Via Sacrocuore dove ieri un uomo ha vinto, pensate, una casa e 200.000 euro giocando appena 2 euro. Un milione di euro vinti giocando appena 2 euro in una ricevitoria di Via Sacrocuore a Modica. Certamente il regalo di Natale che tutti vorrebbero, ma che è capitato a un fortunatissimo signore che acquistando due schedine del gioco Vinci Casa si è trovato un milionario. Si tratta del nuovo gioco che ogni giorno mette in palio una casa e denaro in contante. L'uomo, la cui identità resta segretissima, ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo 800.000 euro da investire in una casa e altri 200.000 subito. Quest'ultima somma sarà immediatamente corrisposta e si potrà spendere come si vuole, mentre i restanti 800.000 euro dovranno essere destinati all'acquisto della casa dei sogni. Praticamente è successo che la stessa persona, immaginiamo noi, ha vinto due volte con due schedine diverse perché nello stesso giorno si sono verificate due vincite di Vinci Casa e quindi si pensa che sia la stessa persona. Possiamo dirgli che devo avere questo record perché da quando esiste questo gioco sono state vinte 149 case ma due nella stessa vincitoria, nello stesso giorno credo che sia la prima volta che si verifichi. Federmoda Ragusa dipinge un quadro a tinte fosche per il settore abbigliamento nella Riblea. Almeno il 10% in provincia rischia di abbassare le sara cinesche in via definitiva e il colpo di grazie di fine anno arriva anche dalle restrizioni del decreto natale. Sui punti vendita del settore fashion, almeno il 10% in provincia di Ragusa rischia di abbassare le serrande in via definitiva. Inutile dire che l'occupazione ne risentirà fortemente con una perdita stimata di decine e decine di posti di lavoro e come se non bastasse i fatturati dalle imprese subiranno una flessione importante con un calo di centinaia di migliaia di euro di consumi solo nella Riblea. E questa è la botta di fine anno che arriva dalle restrizioni del decreto natale a scattare la fotografia di un comparto molto in sofferenza e federmoda Italia con il presidente provinciale Daniele Russino. La crisi, continuo quest'ultimo, rallenta i consumi di moda anche in questi giorni che precedono il Natale con un calo prevedibile a doppia cifra rispetto allo scorso anno anche a causa di una situazione di preoccupazione per le ulteriori misure restrittive e del nuovo decreto di Natale. Così perdiamo anche tutte le entrate della vigilia e quelle di fine anno. Ancora più grave è la perdita dell'inizio dei saldi che rappresentano un fondamentale momento per dare liquidità alle nostre aziende senza avere utili. Se viene a mancare anche quella possiamo solo chiudere il nostro settore in ginocchio e va aiutato i nostri imprenditori. Continuo Russino si sono impegnati al massimo per recuperare fatturati e ottimismo con vetrine, luci, consigli e proposte capaci di soddisfare tutte le esigenze in ambiti assolutamente sicuri. Fiducia che sembrava arrivare anche con la conferma di una rinnovata tendenza dei consumatori verso acquisti nei negozi di prossimità. E se il governo ha introdotto il cashback non sembra ancora decollare i nostri negozi provano a incrementare le vendite con qualche promozione mirata. Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa poi aggiunge ai consumatori chiediamo quindi scelte d'acquisto sempre più consapevoli e sostenibili e quindi sotto casa nei negozi di fiducia. Solo così possiamo rischiare di superare quella che sembra una tempesta perfetta e che ha schiacciato le capacità imprenditoriali di un intero settore. Con la determinazione che la contraddistingue e la voglia di fare bene per il prossimo Alessia Sudano continua la sua battaglia a favore delle famiglie con lo scontrino sospeso questa volta regalando un sorriso e un dono a grandi e piccini. Da marzo dall'intuito della creatrice dello scontrino sospeso Alessia Sudano ha preso piede il contagio il quale è avvenuto in tutta Italia riuscendo ad aiutare centinaia di famiglie che in un momento così difficile era impensabile aiutare soltanto rimanendosi tutti da casa. Grazie alla forza, alla tenacia e alla determinazione di Alessia la quale è stata supportata dal movimento difesa del cittadino ogni ostacolo, preoccupazione e distanza è stato abbattuto con un vortice solidale che ha coinvolto tutti dai semplici privati ai supermercati della grande distribuzione facendo successivamente intervenire farmacie e cartolibrerie le quali nel periodo scolastico hanno aiutato non poche famiglie ad acquistare il corredo scolastico per i loro figli si tratta di un'incessante carezza che non si è mai fermata essa non ha batato a tempo né ritorse materiali e immateriali chi si imbatte in Alessia Sudano sa per certo di cosa stiamo parlando l'ascolto il calarsi nei panni altrui e il continuo porgere la mano hanno fatto la differenza e hanno decretato lo scontrino sospeso come una delle più concrete e immediate iniziative dell'ultimo anno Alessia sta realizzando su misura un vestito rosso e goffo che verrà indossato da mamma Natale e pronta ad aiutare il prossimo così dopo un mese di dirette sensibilizzazione selfie e post richieste di intervento e collaborazione si è giunti al primo Natale dello scontrino sospeso sono stati invitati di fatti tutti i bambini a scrivere una lettera destinata a con lei che indosserà quel famoso vestito che trattando costoro come i suoi figli si è preoccupata come fa una madre ad esaudire ogni loro desiderio di tramutare il brutto incubo della pandemia in un bellissimo sogno realizzabile non contenta di ciò con lo spirito solidale che la contraddistingue poiché da sempre si occupa di chi ha bisogno di aiuto interfacciandosi con altre associazioni ha espressamente richiesto l'elenco di tutti quei bambini i quali avrebbero voluto ricevere ma non avrebbero mai potuto avere un regalo sotto l'albero le lettere numerose e varie hanno portato alla luce con la maturità di questi piccoli eroi e la gestione di un momento difficilmente accettabile fosse così accentuata Simone scrive Babbo Natale richiedendo il regalo mi raccomando stai attento e mettiti la mascherina e se puoi puoi fare un regalo anche a mamma e papà scrive invece una madre grazie mille per questa iniziativa mi sono commossa e quando stavo bene donavo anche io sceglievo ad esempio con cura l'uovo di Pasqua più bello destinato a mio figlio ma se poi l'uscita vedevo chi chiedeva l'elemosina con la propria figlia io questo uovo lo donavo a lui mi avete lasciato senza parole un semplice atto d'amore genera un flusso infinito giorno 23 lo scontrino sospeso in compagnia di una special guest Zampa Natale come annunciato dalla stessa ideatrice sarà presente presso il punto vendita di Toisin per la distribuzione dei regali che come ovviamente immaginate non saranno solo destinati ai bambini ma come richiesto dai piccoli cuori anche alle loro famiglie domani all'ospedale civile di Ragusa l'iniziativa di Natale è promossa dalla pastorale della salute il messaggio di Donno Ccipinte è quello di trascorrere un Natale sobrio e senza consumismo eccessivo in occasione delle festività natalizie l'ufficio diocesano per la pastorale della salute di Ragusa ha organizzato per domani un momento di raccoglimento per riflettere e vivere il Santo Natale ai tempi del Covid-19 alle 16 nella cappella dell'ospedale civile di Ragusa in diretta streaming su Facebook si terrà una celebrazione eucaristica per la sanità del territorio tutti sottolinea il direttore dell'ufficio diocesano Donno Ccipinti aspettiamo il 25 dicembre per festeggiare il Santo Natale e molti troppi aspettano questa festività per sentirsi più buoni e donare qualcosa molto spesso di futile o inutile o per creare assembramenti spesso non importanti ma poi sfugge la realtà che il Natale per i più sfortunati è o dovrebbe essere tutti i giorni dell'anno se solo sapessimo o volessimo vincere l'indifferenza che predomina e tendere una mano e non sempre solo privarci di ciò che abbonde indeterminati e pochi giorni dell'anno il freddo e la fame o peggio la solitudine sono sempre e comunque presenti dal primo gennaio al 31 dicembre e mai come quest'anno la malattia ha colpito tante famiglie il Santo Natale di quest'anno continuo Donno Ccipinti dovrebbe essere contraddistinto da sobrietà poiché la pandemia da Covid-19 e il numero esorbitante delle vittime non può in un attimo passare quasi in secondo piano per non parlare di tutte quelle persone che passeranno le feste in una rianimazione probabilmente a lottare per la vita e gli operatori sanitari che durante le feste cercheranno come sempre di adoperarsi per il bene comune e non solo gli operatori sanitari molti altri conclude Donno Ccipinti saranno per strada a dare un contributo umano e di solidarietà ignorando giustamente una festa che merita quest'anno una celebrazione sommessa e protetta da un significato religioso esente da consumismo eccessivo L'Avimec Volley Modica chiude in bellezza il 2020 con l'ultima vittoria casalinga contro il Lecce grande recupero nel finale risultato conclusivo di 3 a 1 per i modicani difficilmente si poteva immaginare un modo migliore per chiudere il 2020 casalingo per l'Avimec Volley Modica questa contro l'Aurispa Libellula Lecce era infatti l'ultima gara che la compagine Ribua doveva giocare in casa in questo anno solare ed è arrivata una vittoria per 3 a 1 una partita iniziata non nel migliore dei modi ma ribaltata e chiusa con carattere il primo set ha visto Tulone e compagni distanti in campo il sestetto Modicano sembrava non aver la giusta concentrazione per affrontare la gara inizio che va sul punto a punto fino al doppio vantaggio ospite dei 6 a 8 il secondo set è il più lungo dell'intero match un punto a punto che dura 30 minuti inizio buono per la squadra di casa che ha dimostrato carattere fino all'8-5 il recupero avversario ha portato a una lotta serrata fino al 16-15 e così fino al 21-20 il terzo set ha visto Modica volare sulle ali dell'entusiasmo Chillemi è salita in cattedra e ha portato avanti i suoi con un iniziale 8-6 la sfida continuava ad essere punto a punto che non ha lasciato spiragli su chi poteva avere la meglio alla fine l'ultimo set ha visto Modica ormai incanalata verso la vittoria la sensazione era quella che i ragazzi hanno entusiasmo il sorriso si è mostrato anche dopo un punto perso che ha fatto capire che la squadra non ha risentito il peso della sfida ed è stata sicura dei suoi mezzi anche quando si è passati da 16-13 e poi 21-20 la sensazione è stata quella di una sbandata che però poteva ancora cambiare le sorti del gioco il finale è stato di 25-22 con Bua che ha esultato e ha scaricato l'attenzione di un bel match appena vinto bene il telegiornale termina qui grazie e buona giornata e buona giornata